Buongiorno a tutti, Radio Amatori in Montagna, sesta edizione se non sbaglio. Che giorno è oggi? Oggi è il 30 giugno del 2012. Del 2012. Siamo a Montemurano. E siamo qui con il presidente della sezione CISA di Ancona. Esatto, siamo qui a fare Radio Amatori in Montagna. In questo momento stiamo preparando la cena. Esatto, perché come si è svolta la giornata qui oggi, presidente? Si è svolta molto bene. Abbiamo fatto molti collegamenti in HF, nelle varie bande. Abbiamo avuto il piacere di ospitare molti amici, simpatizzanti e soci. E quindi, ecco, quello che ci eravamo ripromessi per l'associazione l'abbiamo raggiunto appieno. Bene, Fabio. Una domanda, ma io vedo che c'era almeno un telescopio un attimo fatto. Perché c'è un gruppo di astrofili che stanno cercando di entrare in contatto con noi, o meglio, cercare di fare un progetto per associare le immagini che loro vedono con i loro telescopi tramite la TV, trasmetterli con il mondo radioamatoriale, insomma, per condividere due aspetti delle nostre associazioni. Quindi di trasmettere in diretta dei segnali che arrivano dai loro sistemi. Dai loro sistemi, esatto. Ah, mi sembra una bella idea. Io comunque volevo ringraziarti per questo invito a nome del Consiglio Direttivo Nazionale. Sai che aveva degli impegni il nostro presidente quest'oggi, ma comunque mi ha detto di dirvi che è come se fosse qui con voi, perché so che c'è stato... C'è stato sempre, quindi non si può dire che non sia stato partecipi alle nostre attività. E noi vi ringraziamo perché, al di là di essere la sezione che ha più iscritti in Italia, quindi quella che ha veramente il peso maggiore, vi ringraziamo perché io credo che attività di questo tipo siano proprio nello spirito della nostra associazione. e vederti anche, oltre a fare tutte queste cose tecniche, preparare il... Il sugo. Esatto, preparare questa prelibatezza in cucina veramente ci fa sentire proprio iscritti al CISA. Io vi ringrazio perché questa è proprio la nostra intenzione. Ti ringrazio, eh. Ciao. Ciao, presidente. Ciao, grazie. Ciao.